Si parla del servizio di porta a porta a Città Sant'Angelo, di relazioni tecniche esterne che sarebbero state affidate e che voi contestate. Perché? Assolutamente le contestiamo in quanto noi crediamo che qualsiasi relazione che sia stata presentata e affidata ai vari professionisti che hanno dovuto lavorare su questo non sono mai giunte in Consiglio Comunale. Per l'affidamento del servizio porta a porta doveva essere propedeutica due serie di relazioni, le modifiche statutarie per quanto concerne la linda S.p.a. e la relazione sulla convenienza. Guarda caso questi due incarichi sono stati effettuati e sono stati dati al primo per quanto concerne la relazione ad un professionista, guarda caso ex componente del PD, ex sindaco di Città Sant'Angelo per un ammontare di 13.000 euro e la seconda un noto studio di avvocati di Pescara per un ammontare di 18.000 euro. Queste due relazioni non sono mai giunte in Consiglio Comunale, ma bensì l'amministrazione ha preferito effettuarle e redigerle essa stessa tramite i propri uffici senza gravio dell'economia. A questo punto noi chiediamo come mai sono stati dati questi incarichi, soprattutto con, a nostro parere e a nostro modo di dire, lacune soprattutto nell'affidamento, perché non sono stati chiesti né preventivi né sono state fatte ricognizioni tra diversi professionisti. Quindi noi chiediamo questa all'amministrazione. L'amministrazione non ha risposto e quindi noi chiederemo anche e saremo pronti ad andare anche verso le sedi giuridiche competenti.